Musica Gentili telespettatori di Antenna Sud, cari amici ed amiche di Antenna Pomeriggio, ben ritrovati, buon inizio di settimana, siamo pronti per cominciare questo nostro appuntamento insieme a tanti ospiti ma anche con la consapevolezza che la notizia che in questi giorni ha fermato l'Italia e ha tenuto tutti con sentimenti profondi, veramente in grande attenzione rispetto all'evoluzione delle notizie che è quella del maltempo, è anche una notizia che coinvolge le nostre regioni, come sapete si cercano due dispersi perché il maltempo ha toccato ieri anche la Puglia e la Basilicata in particolare e proprio alle porte di Matera una famiglia è stata sorpresa da un ubifragio e l'evoluzione tragica è che al momento ci sono due dispersi da cercare, l'auto su cui viaggiavano è stata avvistata e praticamente recuperata, si tratta di un uomo e di una donna ma di informazioni più dettagliate ve ne forniremo più tardi nel corso, nello spazio delle notizie. Oggi è anche il giorno del lutto a Genova, si sono celebrati i funerali di una delle vittime tra enorme commozione e dopo le parole fortissime di ringraziamento del figlio della vittima a cui oggi è stato dato l'ultimo saluto. Ma oggi è il giorno anche di un fermento politico molto importante, direi quasi determinante il governo è in bilico, si cercano i numeri, Berlusconi resiste anche se ieri il ministro dell'interno Roberto Maroni si è espresso in maniera inequivocabile, inutile accanirsi, la maggioranza non c'è più è finita e queste ore sono davvero convulse e decisive tra conferme e defezioni, l'ultima in ordine di tempo quella della deputata Gabriella Carlucci eletta in Puglia e sindaca di Margherita di Savoia che è passata all'Udc. Grande manovre insomma, mentre nel paese aumenta il disincanto verso la politica, non c'è più fiducia e stando ai sondaggi la causa è da ricercarsi nelle vicende interne che coinvolgono il paese. Le preoccupazioni degli italiani ormai segnate dalla crisi economica hanno reso insopportabili i costi della politica, i privilegi di cui godono parlamentari e amministratori pubblici ed una serie di scelte che vanno contro l'interesse dei cittadini e delle fasce più deboli. Ne abbiamo spesso parlato in questi ultimi giorni. Scelte come quella di cui si parla invece nelle ultime ore insistentemente perché sembra essere concreta la volontà di cancellare la legge pinto anche per i giudizi in corso oltre a leggi dal costo assolutamente irrilevante. La legge pinto per chi non lo sapesse è quella che consente di richiedere il risarcimento per l'eccessiva durata del processo e sta causando una progressiva velocizzazione dei processi che ostacola gli abusi delle banche e in generale dei poteri che dirigono il governo e il Parlamento a cui la giustizia evidentemente piace lenta. Avete capito bene? Parliamo di velocizzazione, un concetto strano se si pensa alle migliaia di cause di lavoro che durano in media 10-15 anni in Italia. Tale cancellazione, sia ben chiaro, sarebbe incostituzionale. Ma sappiamo bene ormai che questo non è argomento che spaventa le lobby della politica ed anche economiche che invece, pensate un po', difendono le sei leggi regalasoldi alle banche, quattro delle quali emanate negli ultimi mesi. Con queste leggi, in un momento simile, si sono regalati alle banche ulteriori centinaia di miliardi di euro annuali, il cui risparmio, stando a quello che ci segnalano gli esperti di settore, cambierebbe per davvero le cose. In barba a tutto ciò invece si taglia quello che produce buone pratiche e che si ripercuote proprio su di noi che a queste lobby della politica abbiamo affidato il nostro destino. Non può essere che si continui a far finta di niente o a far passare in maniera sorda ed in dolore dei veri e propri attentati morali e reali alla nostra dignità di cittadini. Ma da chi siamo rappresentati verrebbe da dire. E non si può neppure accettare il fatto che per difendersi si debba sperare nelle proteste, nei gruppi formati sulla rete e nella sensibilità di qualche parlamentare ancora lucido. e proprio ai nostri parlamentari è diretto il mio invito. Pensate ai cittadini, pensate ai loro sacrosanti diritti, ai loro sacrifici quotidiani.